Quante moto oggi qui in piazza mercato a Domodossola e da chi è organizzata questa manifestazione? Manifestazione organizzata dal Motocub Vivi Giovane. Come moto, vista la bella giornata, come presenza saremo sulle 200, penso. Circa. E anche una benedizione prevista? Dove? Al passo del Sempione, come tutti gli anni, la prima domenica di maggio si svolge la moto benedizione. Di solito sono migliaia i motociclisti svizzeri, quindi sono 3-4 mila a volte anche quelli svizzeri, oggi con la giornata bella magari sì. E ci uniamo noi italiani. E da dove provengono i motociclisti? Da tutta Italia? Provincie vicine, province, regioni, Piemonte e Lombardia. Ed è quale numero di edizione? Questa per noi è la nona. La nona edizione è organizzata da voi? Invece la modizione da Sempione la faranno da 40 anni. Ci saranno altre tappe qui, non solo o l'unica prevista era qui a Domo? L'unica qua, organizzata da noi qua. Poi ci sono dei gruppetti che si trovano, si organizzano per conto loro proprio.